Parliamo di Insidious la Porta Rossa. Ho recuperato la saga di recente, proprio in prossimità di questo quinto capitolo, per poterne parlare un po' sui social, e per quanto mi riguarda è una delle saghe horror peggiori che abbia mai visto. Mi spiego meglio. Soprattutto i primi due capitoli, anzi, solo i primi due capitoli, avevano il potenziale per essere dei film spettacolari. Avevano delle idee perfette per quanto mi riguarda, il concetto di al di là, di altrove, proprio il look, lo stile di demoni, compreso il fratello stupido di Darth Maul. C'erano delle idee veramente molto molto carine, solo che sono state sfruttate molto male in alcuni casi, in altri casi sono state sfruttate molto bene, però la cosa che rovina di più questi film, in generale anche il terzo e il quarto capitolo, che sono dei prequel sul personaggio di Elisa, di Elise, vengono tutti rovinati, soprattutto questi ultimi due film, dai jumpscare. Continui jumpscare, alle volte anche prevedibili, quindi non riescono a sfruttare nemmeno il loro compito. E per quanto mi riguarda i jumpscare all'interno dei film horror sono un problema, quando sono inseriti soprattutto così male, perché non riescono a spaventarmi davvero. Sì, posso saltare appunto, posso saltare, spaventarmi, jumpscare, però non mi spavento realmente, io vorrei spaventarmi con un horror, inquietarmi, più che spaventarmi con un horror attraverso l'ambientazione, anche la costruzione di alcune inquadrature spaventose, ma non un demone che ti arriva davanti lo schermo e fa, buh, questo riuscirebbero a farlo tranquillamente chiunque, potrebbe farlo anche, non lo so, mio fratello ora entrando dalla porta senza alcun problema, mi spaventerei. È la stessa cosa, però non è assolutamente una situazione horror. E la saga di Insidious ne sfrutta, ne abusa davvero di questi jumpscare. Questo quinto capitolo, che non ha più la mano di James Wan, nonostante qualche ditino, qualche unghio di James Wan, io l'abbia sentito, è diretto da Patrick Wilson, ovvero l'attore che interpreta Josh all'interno della saga, che interpreta anche Ed Warren nella saga di The Conjuring, e che a questo punto è un feticcio, un attore feticcio di James Wan, visto che l'abbiamo anche in Aquaman, come Ocean's Master, e l'avremo anche in Aquaman in The Lost Kingdom, non vedo l'ora veramente di vedere quel capolavoro che sarà questo sequel, però per me è assolutamente un no questo quinto capitolo. Forse è uno dei peggiori, se non il peggiore. In realtà c'è ancora il terzo film, quindi magari questo quinto lo metto un pochino più sopra di questo peggiore, che è il terzo, l'inizio. Fatto sta che è veramente un film senza un senso, non ha motivo di esistere, perché ho notato molto, ho avuto la sensazione che sia stato fatto solo per il mero denaro. Solo perché appunto Insidious guadagna tantissimo come saga in confronto al budget, perché sono arrivati al massimo a 10 milioni come budget, che appunto sono gli ultimi tre capitoli, compreso questo quinto, a costare 10 milioni, hanno sempre guadagnato tantissimo. L'ultimo ne ha guadagnati quasi 170 milioni, che è tantissimo, appunto in base al budget di 10 milioni di dollari. Non c'è un pretesto buono che regga per questo quinto capitolo. Ci poteva tranquillamente essere perché a fine secondo film abbia, l'ultimo in cui vediamo la famiglia Lambert, anche se poi compare in qualche modo negli altri due capitoli. A fine secondo film noi vediamo Elise, morta ormai, quindi spirito, che entra in casa di questa donna. Tra l'altro c'è anche Jenna Ortega, potevano tranquillamente sfruttarla ora che è famosissima, invece non l'hanno fatto in questo quinto capitolo. Abbiamo Elise che entra a casa di questa donna, vede uno spirito dietro di lei, noi non lo vediamo, lo vede solamente lei che è la sensitiva. Quella poteva essere tranquillamente la trama, o comunque anche la sottotrama di questo quinto capitolo invece l'hanno lasciata lì, volare nell'aria senza alcun motivo. Solo dimentica anche la stessa Elise che in questo film compare, è una comparsata, non so per quale motivo sia nella locandina, visto che è un personaggio totalmente inutile. Però a quanto pare una vecchietta sensitiva attira la gente, visti i guadagni degli ultimi due film. Però parlando in generale di questo La Porta Rossa, è abbastanza noioso. Ecco perché sono rappresentato dormiente in questa locandina, in questa copertina del video. Non mi sono spaventato minimamente, sarà perché magari Patrick Wilson appunto non è esperto di regia, è il suo primo film. C'è qualcosina di James Wan, quindi magari ha captato un po' la sua mano, sfruttandola anche bene in alcune scene. E dico poi, magari senza spoiler quale scene, poi ne parlerò più nello specifico nella parte spoiler. Però nella maggior parte dei casi no. I jumpscare soprattutto sono tutti prevedibili, quindi non mi sono nemmeno spaventato in quel momento chimico, appunto, la paura chimica del jumpscare. Non è successo nemmeno in quel caso e la sensazione che ho provato per la maggior parte, soprattutto dopo il prologo, il prologo è la cosa migliore di questo film, se dobbiamo appunto confrontarlo con il resto. Ma sicuramente la sensazione principale è stata la noia, cosa che io con un horror sinceramente non vorrei assolutamente provare. Tutti i jumpscare prevedibilissimi. Per quanto riguarda la famiglia Lambert, hanno a quanto pare deciso di confondere un po' lo spettatore distruggendo lo status quo della famiglia con separazioni e robe varie tra familiari. Personaggi della famiglia in prima importanti come la stessa Renée, che adesso sono personaggi strasecondari, terziari anche, che vengono messi totalmente da parte comparendo veramente pochissime volte. Gli altri fratelli di Dalton, di Harley, anzi, a proposito Harley, io ti conosco come Harley di Iron Man 3, ma sinceramente un corso di recitazione non farebbe male. Comunque, gli altri fratelli sono messi, compaiono veramente in una sola scena, soprattutto la sorella, totalmente messa lì da parte. Ma mi sono stupito veramente della non presenza assidua di Renée. La cosa importante è qui, secondo loro, era appunto il rapporto padre-figlio tra Dalton e Josh, che anche loro sono in guerra, non si sa per quale motivo. Non viene assolutamente spiegato così, in generale. Dalton è cresciuto ed è diventato così. Per tutto il film le loro storie saranno poi divise, perché Dalton se ne va al college, ha il suo da fare, diciamo, con i demoni, anche con la porta rossa, inizia a disegnare questa porta rossa in modo violento, e poi Josh invece ha a che fare con altri tipi di demoni, anche più personali, diciamo. Potremmo dire che il film si concentra di più sul concetto di, sì, puoi dimenticare i tuoi demoni, ma i tuoi demoni non dimenticheranno mai te, perché alla fine del secondo film loro perdono la memoria, venendo ipnotizzati da Carl, però qua ritorna tutto e così a caso, diciamolo, questo film è veramente stato fatto solo per guadagnarci. Perché anche a livello di ultimo capitolo non sembra assolutamente una conclusione di una saga horror durata dieci anni, più di dieci anni. E nonostante non mi siano piaciuti i film, questa cosa mi dispiace, perché quando un film viene annunciato come ultimo, poi sì, sicuramente ci saranno spin-off, è già stato annunciato che ci saranno altri film della saga, magari non si chiameranno Insidious, ma saranno collegati in qualche modo, c'è l'idea di fare un crossover con Sinister, tra l'altro, film che ho apprezzato io, almeno il primo, il secondo non l'ho visto e non lo voglio vedere perché ne ho sentito parlare male, però sicuramente continueranno dopo questo quinto capitolo. E mi dispiace che sia finito in questo modo, non essendoci nemmeno il senso di un capitolo finale. Immaginate se fossi stato un fan della saga, quale sarebbe stato il mio disprezzo verso questo film. Ho visto i primi due il 2 luglio, se non sbaglio, comunque c'è il diario su Letterboxd, poi vado a controllare, anzi, andatemi a seguire su Letterboxd. Poi gli altri due, quelli pericoli, li ho visti il giorno dopo e quindi letteralmente li ho visti qualche giorno fa, non sono un fan, non mi piace nemmeno la saga. Per ora ne ho parlato per lo più male, anzi quasi solo male. Qualcosina di interessante c'è in questo quinto capitolo, qualche scena, un po' alla One che ho apprezzato. Dico solo scena della macchina o scena della finestra, anche prima parte della scena dell'attack, sia quella della finestra che quella dell'attack si sono nel trailer, quindi non è un grandissimo spoiler. Queste scene sono anche interessanti. Il modo per spaventarmi a questo punto, penso sia chiaro, è presentare delle scene, delle inquadrature abbastanza larghe, diciamo, soprattutto quella dell'auto, in cui è presente un modo per far spaventare lo spettatore ma anche e soprattutto il protagonista. Cosa che effettivamente in quella della macchina non succede ma per altri motivi. Però quella scena mi è piaciuta. Non ho apprezzato veramente la scelta di distruggere così lo status quo della famiglia Lambert solo per poter portare questo quinto capitolo in modo terribile. Ripeto, anche Elise non è un personaggio importante, compare solamente alla fine e scompare solamente alla fine. Anche i due Ghostbusters della saga, totalmente lasciati a caso dopo essere stati così importanti sia nei primi due film ma soprattutto negli orribili prequel. E il finale veramente non ha quel senso di chiusura, lo ripeto. Sembra semplicemente un film di passaggio, sembra che ce ne debbano essere altri dieci di Insidious, cosa che almeno Insidious non continuerà. Poi magari fanno un film intitolato Josh and Dalton e sarà un film comico perché a questo punto questo non è un film horror questo qui. Anzi alcune scene mi hanno anche fatto sorridere, almeno ho interrotto quel senso di noia che stavo provando. Causa appunto Jumpscare e un Jumpscare soprattutto mi ha fatto abbastanza ridere. C'è un, parlandone un po' senza spoiler, c'è una luce che si spegne e si accende, si spegne e si accende, si spegne e si accende e tu sai che palesemente ad un certo punto succederà qualcosa a quella sagoma di quel personaggio. E io sono stato così letteralmente ad aspettare, ok dai, spegni, accendi, spegni, accendi, 3, 2, 1, boom! E succede la cosa, ho anche altri Jumpscare abbastanza prevedibili, direi un'inquadratura larga, inquadratura molto larga, con un personaggio, immaginate questa è l'inquadratura, un personaggio qui, qui tantissimo spazio, ok, 3, 2, 1, boom! E compare il demone. O personaggio che viene rincorso da un altro personaggio, da un demone in questo caso, lo chiude fuori, apre la porta, tu sai che ovviamente lì non ci può essere il demone, la richiude, boom! E compare a destra. È ovvio, ragazzi, magari è anche colpa, anzi quasi sicuramente è colpa di Patrick Wilson che non è esperto ancora e quindi presenta questi Jumpscare molto più prevedibili del solito, non ha altro modo di presentarli, almeno all'inizio, ora questo è appunto il suo primo film come regista, io lo apprezzo come attore soprattutto nel ruolo di Ed Warren, ma diciamo che rimani attore. O comunque cerca in qualche modo di migliorare sempre più, se vuoi continuare con qualche altro film, sicuramente guarderai questo video, ne sono abbastanza certo. Se vuoi continuare come regista, almeno horror, cerca di migliorare un po' la presentazione dei Jumpscare che sono veramente tutti prevedibili e alcuni molto divertenti nel senso sbagliato. Mi sono messo a ridere. Nel film vengono anche inseriti due personaggi, uno abbastanza inutile generalmente, uno un po' più importante perché fa delle cose importanti, ma allo stesso tempo abbastanza inutile nel contesto perché poteva anche non essere inserito. Sto parlando, almeno senza spoiler di uno, posso parlarne dell'altro no, dell'amica di Dalton al College, che è un personaggio messo lì solo per smorzare un po' secondo loro la tensione che si sarebbe andata a creare, ma non c'è assolutamente un che di tensione, zero. Mentre un altro personaggio riguarda Josh ed è... non ne posso parlare perché sarebbe spoiler, quindi riguarda il suo passato, ma è una retcon bella e buona, anche fatta male, non bella e buona. Direi adesso però di passare velocemente alla parte spoiler, ho pochissimo da dire a riguardo. Magari come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Twitter, Letterboxd con le recensioni e robe varie. C'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt è Articoli Nerd dove trovate diversi design come quelli che state vedendo adesso sullo schermo, ma se non avete visto Insidious la Porta Rossa direi di lasciare questo video perché gli spoiler inizieranno tra 3, 2, 1. Prima cosa di cui voglio parlare è di questa retcon di cui ho parlato all'ultimo della parte senza spoiler, ovvero il padre di Josh. Padre di cui non si era mai parlato, soprattutto nei riguardi del suo potere, come appunto il potere di Josh e di Dalton, quindi una cosa che si tramanda da generazione a generazione. Quello di poter entrare nell'altrove, quindi rimanere in contatto con i morti, con i demoni, ed è una cosa nuova di questo film. Le scene che riguardano il padre sono anche interessanti per lo più, è lui anche il protagonista della scena lì della porta che si apre e si chiude, ma è anche protagonista della scena della finestra, è protagonista della macchina, che compare appunto lentamente sempre più vicino a Josh, ma non lo vede, tranne poi appunto quando rompe la finestra, ma vabbè. E diciamo che è un po' il ruolo della madre di Elise nel quarto film. Potevano anche risparmiarselo questo padre, non avevano sicuramente cosa far fare a Josh e quindi hanno inserito quest'altra storia, ma a questo punto, visto che è un film che si è concentrato anche di più sul drama, sul teen drama, potevano solo parlare di Dalton, visto che hanno già levato la maggior parte della famiglia Lambert, potevano anche levarsi di torno Josh. Però, vabbè, Josh è Patrick Wilson, Patrick Wilson dirige il film, capisco il perché ci sia, è perché sia ancora il protagonista. Elise in questo film, ripeto, è stata abbastanza inutile, compare alla fine, poteva tranquillamente essere più importante, visto che è anche nella locandina. Non ho apprezzato minimamente la distruzione dello status quo della famiglia Lambert, quindi Josh e René che si sono separati, Josh e Dalton che non si parlano più, non sono più in buon rapporti. È stato un modo, letteralmente, per ritornare poi allo status quo perché sembra che all'inizio comunque tutti i sistemi, anche tra René e Josh, abbastanza stupida come idea. Come sostanzialmente credo sia anche stupido il modo in cui finisce il film, perché, ripeto, sembra un film molto di passaggio, sembra che ce ne saranno altri di Insidious, sembra che la faccenda altrove non sia finita del tutto, sembra che quella porta si riaprirà tranquillamente. Qui anche il demone con il fuoco in faccia, Darth Maul, è stato trattato di merda totalmente, è anche cambiato, sembra molto meno spaventoso, sembra più pupazzoso. E per quanto mi riguarda la scena in cui si scopre che il dipinto della Porta Rossa, questa analogia del dipinto con la reale Porta Rossa, il dipinto fatto da Dalton a scuola, la scena in cui si scopre che lui, dopo aver dipinto tutto di nero e quindi aver chiuso questa Porta Rossa, abbia deciso di disegnare la scena del primo film, in cui Josh porta in braccio suo figlio, Dalton, è una scena molto smielosa. Non lo so, non ci sta molto con tutto il resto del film, forse potevano anche trattarla un po' meglio, sia il modo per farci capire che sono di nuovo in pace, non c'è più quell'astio che non si sa assolutamente come sia venuto, visto che non ne parleranno, non ne hanno mai parlato e non ne parleranno più, visto che la saga è finita. Ma vabbè, dopo aver visto comunque i quattro film in binge watching, per lo più, non è che mi aspettassi così tanto da questo quinto capitolo. Sicuramente mi aspettavo magari di avere una conclusione, invece non sembra esserci stata. Mi aspettavo a questo punto anche di spaventarmi con i jumpscare, anche questo non è successo, mi sono totalmente annoiato. La scena della luce che si spegne e si accende riguarda il personaggio dell'amica di Dalton e Dalton stesso, con la sagoma di Dalton che a un certo punto presenta il volto di un demone e io ero lì veramente ad aspettare, ok, palesemente Dalton adesso cambierà, diventerà demone o scomparirà velocemente e riapparirà il demone, invece semplicemente compare lui con un sorriso che mi ha fatto ridere. Anche a livello recitativo sì, ho visto il film doppiato, quindi non saprei andare al 100% nei dettagli, ma alcune faccette dello stesso Harley, di Iron Man, di Dalton, mi hanno fatto ridere. Appunto ci potrebbe anche stare un corso di recitazione, come ho già detto. E per chiudere di nuovo, ripeto che questo film è stato palesemente fatto solo per il denaro, per guadagnare ancora di più da questa licenza Insidious, che non ha più di nulla di Insidious, perché non ci sono nemmeno le idee originali e interessanti del primo e del secondo capitolo. La stessa Porta Rossa, che è persino nel titolo, non sembra nemmeno così importante, sì, è il soggetto del disegno, è il modo per entrare in contatto con l'altrove, però si sono concentrati di più sul rapporto padre-figlio e l'hanno trattato anche male, è quello il problema, se l'avessero trattato bene non mi sarei nemmeno lamentato di questa cosa, però l'astio tra i due personaggi nasce per un non si sa che. E si risolve anche in modo abbastanza veloce, perché comunque il film non dura nemmeno tanto, dura nemmeno due ore, e questo è un bene, assolutamente, perché se mi sono annoiato già così immaginate se fosse durato molto di più. E si sistema tutto lì, dove tutto è iniziato, così come c'è scritto nel sottotitolo del film, e grazie alla cippa diciamo che finisce dove tutto è iniziato, nell'altrove, dove poteva finire in altro modo. Effettivamente poteva già finire con il secondo capitolo, infatti quella era l'idea in teoria, e per la saga, in quanto Insidious sarebbe stato un finale perfetto, visto che finiva tutto, invece hanno deciso di continuare con i demoni che ritornano e bla 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 bla. Ma ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qui sotto di Insidious, la porta rossa, ma in generale anche della saga, perché è la prima volta che ne parlo sul canale, avendola vista solamente adesso. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate i link importanti tra i miei social, i link di Pampling, il codice del pensiero 4 per avere un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!